E salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sul canale Oggi dopo tanti giorni, dopo tanti mesi e soprattutto dopo tanti sacrifici Siamo raggiunti alla fine, tra virgolette, alla fine del restauro per la seconda volta del mio zip Allora chi mi segue sul canale o sulla pagina instagram Più o meno sa gli aggiornamenti che sono stati fatti Però comunque vi dirò tutto in questo video Dalla A alla Z Quindi dalla prima modifica da quando l'ho comprato fino ad ora Allora questo è uno zip seconda serie Non è il fast rider, ora è diventato fast rider È lo zip seconda serie Quindi quello che usciva con le frecce più a goccia sulla carina anteriore Che poi la carina anteriore ce l'ho montata su quest'altro zip Che stiamo facendo un altro progetto Stiamo aspettando insomma tutti i pezzi Quindi appena l'ho comprato era totalmente originale Quindi con quella carena Naturalmente ancora con la vernice originale nero opaca E ci aveva solamente il rialzo dell'ammortizzatore a quattro fori E un Arrov L'Arrov quella per base proprio E basta il cilindro originale Ah il carburatore 17,5 ci aveva con la scatola filtro originale Questo ragazzo insomma lo usava per andare al lavoro Quindi non gli servivano grandi prestazioni Poi come ho detto l'ho comprato io Al prezzo di 250 euro E più il passaggio sono andato a finire insomma A quasi 300-400 euro Poi ho iniziato insomma a modificarlo Appena è arrivato a casa quindi ho tagliato il codino Ho messo il portatarga e ho fatto insomma casareccio Lo stop di dietro verniciato nero con la bomboletta Insomma le solite cose che si fa allo tip In più tutte le frecce e anche quelle anteriori Verniciate anche se con la bomboletta nera Poi sono andato a forare la cofanetta Per fargli i buchi Non aveva niente di utile Però mi piaceva così E sono andato a forare la cofanetta Poi avevo una mezza idea di come farlo Di colore eccetera eccetera Però ho lasciato perdere perché volevo un attimo metterlo sotto mano E non volevo subito verniciarlo Magari poi cadevo, lo rovinavo Tutto quanto e poi mi dispiaceva Quindi ho lasciato perdere insomma la verniciatura per un po' E ci ho montato un DR-70 Lavorato L'ho montato Poi spacca i cuscinetti di banco E mi sta andando a puttana il pistone Io non ho mai grippato nessun motore Almeno per ora Quindi non riesco Non so il dolore che si prova Quindi grazie a Dio io non ho mai grippato E solamente Quel giorno spacca i cuscinetti di banco E ci ho andato a puttana il pistone Ma il cilindro era intatto E così decisi Di lavorare il collettore di scarico Del DR E in più l'ho portato alla rettifica Per farlo abbassare Di un millimetro e due Per anticipare insomma la camera di scoppio Questa è una cosa che facciamo ai motori Del moto d'acqua E noi per le gare Quindi ho voluto provare E grazie a Dio è andato tutto bene In più ho fatto lucidare tutta la testata Insomma avevo fatto un DR E come si deve L'ho montato Ho montato il 17,5 Con questa volta Un filtro cono della Polini Sempre mantenendo l'arrov Poi Spaccai l'arrov Cioè si tranciò proprio a metà E Poi ho deciso insomma Di cambiare il tutto lì Quindi partono i lavori Smonto il blocco Smonto Smonto il cilindro Smonto tutto Metto albero Della top TPR spalle piena Poi ho comprato Tutta l'aspirazione Quindi pacco lamellare UL13 della Malossi Che è ancora montato Collettore dritto della STG6 Che lo tengo ancora E un PHBG19 Che poi ho venduto E mi sono preso il 21 Che c'è ancora ora Con il filtro corto Della STG6 Poi come trasmissione Ero indeciso E sono andato Di Malossi Tutta completa Quindi variatori Cinghie Correttori Frizione Campana E lasciando però I rapporti Originali Perché ancora le prime armi Non capisco bene Come funzionano I rapporti Tutto quanto Quindi ho voluto Lasciarli Originali Poi per quanto riguarda Il cilindro Ero indeciso Se lasciare Il DR E così Una sera Mi sono imbattuto Insomma Alla ricerca Su internet Per trovare Un cilindro Più che trovare Cercare un cilindro Anzi vedere Quali cilindri Ci fossero disponibili Al giorno d'oggi Per lo zip D'aria E guardando Su Biola Motors E mi è uscito La pagina Della STG6 E Mi sci Insomma Il cilindro MK2 E 70 D'aria Per questo modello Ho detto Non l'ha mai provato Nessuno Qua da me Quindi non so Come vanno Mi sono informato Con il mio meccanico Mi ha detto Non li ho mai montati Quindi non so Come vanno Ho detto Vabbè Tanto I lavori Li sto iniziando A fare da solo Come va va Quindi Ho venduto il DR A una cinquantina di euro Circa Tutto completo E Mi sono messo I soldi da parte Insomma Per comprare Questo STG6 MK2 Che mi è costato 189 euro Se non erro Con tutti gli sconsi Tutto quanto E Arrivo il cilindro Tutto a posto Lo monto Però c'era il problema Della marmitta Essendo che io avevo L'arrov Ancora Non è Che lo potevo montare Con un arrov Un cilindro intermedio Con una marmitta Proprio Scarcia Quindi decidi Decisi di vendere L'arrov Su internet Su facebook A una ventina di euro Da riparare E Mi dite a mettere i soldi Da parte E contattai un rivenditore Della Sicilia Che ringrazio molto Mi fornisce Tutto oggi I ricambi E gli ho detto Senti Io Marmitt Che sono in commercio Tipo Pinasco Tipo Giannelli Quelle puttanate lì Non le voglio Voglio provare cose nuove Quindi Facciamo una marmitta buona Se tu hai qualche contatto Dammi una mano Per favore Si mise a disposizione E Mi fece fare Una marmitta Artigianale Che Non era Proprio Fatta bene Pagata 180 euro Si chiamavano Game Racing E Sinceramente Di sound Si Mi piacevano Siano 50-50 E A livello di estetica Si era bella Però A livello di staffaggio Era fatta male A livello di collettore pure Quindi Sono Sono rimasto Un po' scontento Decisi Insomma Di montarla Lo stesso Dopo Qualche mese Insomma Si spaccò Proprio Dalla Dalla parte Della staffa Si distaldò E quindi Poi ho dovuto venderla Facendo scambio Con una Malossi Forrestogli Che è quella Poi che ho mantenuto Con L'MK2 Una volta Poi Montato il tutto Che avevo Carburato E tarato Tutto Lo scudo E montò Mio padre Tutte le carene Quelle con Con le frecce Insomma Sulla carena Poi Gira oggi Gira domani Gira domani Ancora Dopo un po' Ti stanchi Di vedere sempre Quel colore Quello lì E decisi Di comprare Questa carena Del fast rider E L'unico problemino Però Io c'avevo comunque Già la mono forcella Adattata E Ce l'ho ancora Tutto oggi Con cerchi E la colorazione Principale Dello zip E nero e oro E quindi La forcella Già la tenevo Ho detto Quale occasione Migliore Per non farlo Fare a cuore Come la maggior parte Vediamolo Ho preso Questa carena Che è Del fast rider Quindi fare a cuore Però usciva Modello d'aria C'avevo il problema Però del cupolino Il cupolino Come vedete Non è quello Dello zip Ma è quello Mio Quello che c'aveva Il faro Tutto resinato Fatto davvero Molto bene Da carrozzieri Non da zingari E quindi Decidi Insomma Di smontare il tutto Poi ho iniziato A mettere le lampadine In led Modificare L'infanto elettrico E tutto quanto La marmitta Poi l'ho venduta Perché Devo prendere una curva alta Che poi di nuovo Ho rimandato indietro Perché ho avuto Un po' Un'inculata E poi Mi sono proprio Sbizzarrito Al 100% Quindi ho fatto Fare la coppa nera La coppa Trasmissione nera La sella Personalizzata Che ancora Mi deve arrivare Sto mettendo Il termometro Della temperatura Sotto candela E pare Leve colore oro Con le manopole Dell'addomino Nero oro Lo specchietto Della Stigis Quindi sto facendo Un po' Un abbinamento Davvero davvero Molto bello Ora vi faccio vedere Tutte le modifiche Vi faccio vedere Anche la nuova Marmitta Che ho montato Allora ragazzi Questo è lo zip Lo potete vedere Già con la monoforcella Gomme nuove Anteriore e posteriore CST Tutto l'impianto Frenante Tutto originale Quella Era la carena vecchia Che stava montata Qua sopra Ecco qui La coppa Verriciata a polvere E ragazzi La mitica Marmitta Trexhoust Comprata nuova Montata Tutto quanto Sound Da urlo Ci farò un video dedicato Come potete vedere Il filtro Quello che vi dicevo Della Stigis Con il carburatore Collettore Stigis Dritto Probabilmente Rubinetta Cruda libera Il tubo È da cambiare Ragazzi Perché mi devono Arrivare quelli gialli Cerchio Sempre color oro Dietro Peccato che li tengo Diversi Però Ragazzi Guardate la checca Ho tagliato Il portatarga Sì ma ho voluto Mettere il faretto Della Str8 A led bianco Che mi illumina La targa di sera Naturalmente con tutto L'impianto elettrico Fatto per bene E con il bottoncino On off Naturalmente tutti i cavi Che escono Dal vano batteria E qua Ci abbiamo La centralina Della Marossi K15 Quindi ragazzi Un po' di cose L'avete viste Diciamo Non sono stato molto Dettagliato Perché Vi ho fatto vedere un po' Così Veloce Le modifiche Insomma Non voglio che il video Esce troppo lungo Quindi Avrò anche l'occasione Per Fare il video dettagliato Per il momento Stiamo aspettando Un nuovo obiettivo Per la videocamera Per iniziare a fare Le ilveze con quelle Non è il massimo Però Ancora E ci si può arrangiare Ecco Quindi Spero che Questo zip Vi sia stato Di garbo Spero che vi è piaciuto Sinceramente Ci spero tanto A me Personalmente E Mi piace davvero molto Perché Sono riuscito A raggiungere Un obiettivo Che speravo da tanto E quindi Ci sono rimasto davvero Davvero molto contento E ancora è da finire Quindi nel prossimo video Ragazzi Vi farò un po' Delle riprese Fatte bene In cui vi farò vedere Tutte le modifiche E Per bene Da vicino Tutto quanto E Naturalmente poi Una volta completato Appena arrivano Gli altri pezzi Li monteremo insieme In un video E poi ci sarà L'ultimo video Insomma Con tutte quelle riprese Fighe E cercherò di fare Una cosa fatta bene In cui Lo accendiamo E sentiamo il sound Nulla ragazzi Per oggi abbiamo finito Lasciate un like Se vi è piaciuto E non Dimenticatevi di seguire Sulla pagina Instagram Qua sotto Perché Potete inviarmi Foto E video Dei vostri motori Delle vostre vespe Dei vostri api Di tutto Tranne Del microcar Perché non sono Ammesso Nella mia pagina Instagram E nulla Iscrivetevi al canale Così Cresciamo tutti insieme Ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti